Sembra che non levo gli occhiali e allora sono più fatta del solito Ma no, comunque perché non sei in Macete Mixtape 4, ti chiede Romeo Eh, forse va chiesto Chiedi al mister perché non mi complica Chiedi a info.macete.com, grandissimo hype sull'uscita del Macete 4 Io l'ho sentito e ti dirò Hanno spagato tutti così tanto che forse ci ho guadagnato per esserci Cioè, diciamo, l'entry level era molto alto Eh sì, sì, sì Cannonate L'hai sentito sulla nave? Sì, l'ho sentito sulla nave Quindi siamo in grado di poter fare una reaction in anteprima del Macete Mixtape Non vi dico un cazzo No, no, la riella è già fatta, cioè che è bello, è potentissimo